2016, anno della svolta, anno nel quale Bassano vorrebbe essere vista, è il caso di dirlo, sotto una nuova luce. Sul tavolo c'è un ambizioso progetto di rinnovo dell'illuminazione pubblica. Dopo aver riacceso i lampioni spenti dall'austerity, l'amministrazione comunale ha in programma il passaggio dalla vecchia lampadina a LED. Attualmente in città ci sono 9.000 punti luce, quasi tutti ancora di incandescenza, quindi con le vecchie lampade a consumo piuttosto elevato. Un investimento che sicuramente poi ti fa risparmiare sulla bolletta perché cambiando le vecchie lampade ad incandescenza si mettono lampade a LED che consumano molto meno. Pensiamo che il comune di Bassano ha circa 8.000 lampade ad incandescenza, quindi che hanno un consumo abbastanza alto. Vecchi quadri elettrici che le controllano ancora degli anni 70 e 80, circa 200 in tutto il comune, quindi c'è molto lavoro da fare da questo punto di vista. Il comune spende una bolletta annuale di circa 800.000 euro che con le luci a LED potrebbe essere dimezzata. Ma c'è anche un altro aspetto legato ad una nuova illuminazione della città. Altrove l'occasione è stata colta per valorizzare i monumenti e i palazzi cittadini, un aspetto tutt'altro che secondario per una città d'arte e con ambizioni di sviluppo turistico come Bassano. Il centro storico ha delle zone caratteristiche molto molto belle, il ponte ha bisogno di alcuni accorgimenti, alcuni dei quali sono inseriti nel progetto di restauro. Un'altra area sicuramente buia che va presa in considerazione è quella del Tempio Ossario, insomma quando uno arriva di sera a questo bellissimo monumento non si vede in nessun modo. Quindi è una parte della città che va ripensata dal punto di vista della pubblica illuminazione. Resta però l'incognita finanziamenti. Per rinnovare l'intera illuminazione pubblica di Bassano servirebbero circa 5 milioni di euro, più o meno la stessa cifra necessaria al restauro del Ponte Vecchio. Il Comune è in attesa di una risposta alle richieste inoltrate a Regione ed Unione Europea.